E' morta accadendo dal mezzo agricolo a bordo del quale stava viaggiando insieme al suo papà. Antonella Rizzo aveva soltanto 18 mesi, una tragedia difficile da raccontare e che ha scosso l'intera comunità irpina e non solo. L'episodio si è verificato a Castelvetere sul calore, una cittadina che oggi ancora non riesce a riprendersi dallo shock. La dinamica ci consegna un tranquillo pomeriggio di sole e di lavoro nei campi e negli allevamenti dell'Alta Irpinia. Il papà di Antonella, Ferdinando, di appena 30 anni, insieme alla moglie, Nilde, allevatore di bestiame, aveva dovuto faticare per cercare di non portare con sé la piccola, che invece ha insistito per stare insieme al suo papà. La giornata soleggiata ha poi incoraggiato i genitori a lasciare che la piccola Antonella accompagnasse il padre a caricare una cisterna d'acqua per l'allevamento di bestiame. Sono arrivati fino a località Fontana del Bosco, vicino al lucro industriale di Castelvetere. Poi la tragedia, si è improvvisamente aperto lo sportello del trattore mentre questo era in movimento e la piccola Antonella è scivolata fuori, andando a finire prima sugli ingranaggi del mezzo agricolo, poi sull'asfalto, dove l'impatto è stato violento. Una situazione che è apparsa subito disperata, nonostante i tentativi di rianimazione di mamma Nilde, papà Ferdinando e degli operatori del 118 prontamente intervenuti, la piccola Antonella è spirata nei pressi del suo giardino di casa. In Contrada Serre sono subito giunti i carabinieri di Montella per le indagini di Routin. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta, disposta all'autopsia sul corpicino della bimba, volata in cielo così prematuramente, sequestrato il mezzo agricolo. Forse i funerali si terranno domani e il sindaco di Castelvetere, Walter Pescatore, proclamerà sicuramente il lutto cittadino. Grazie a tutti.